Arriva Pellegrini Pellegrini dentro, Luperto Poi è il Sharaway di testa per Tibala Col sinistro poi Mancini, Vicario Abraham Confusione, arriva Smalling Ma Lempoli riesce a salvarsi È successo di tutto nell'area Dell'Empoli che adesso prova a ripartire La porta su Parisi, cerca dentro Caputo Strada chiusa da Matic La Roma ci ha provato in tutti i modi a fare 3-0 Nell'azione di poco fa Eccola il calcio d'angolo di Pellegrini Luperto, poi è il Sharaway di testa Per Tibala che ci prova Vicario, Mancini, Vicario, Ebraham Vicario e poi l'anticipo di De Winter Di De Winter su Smalling Ma ha parato una delle tre volte Vicario Con la gamba alta Un talento straordinario Per la difesa della porta a Vicario Già una parata Secondo me da apprezzare Nel primo tempo che ha evitato La doppietta di Dami Ebraham Togliendo il pallone da sotto Da traversa E poi anche questo triplice tentativo Triplice parata di Vicario Nella stessa azione della Roma Sai! Sci! Caracus! 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 exclude! sevastra Ville! Picario! Sign!!! gustado Valentine cacasse gen!!! 스포 Grazie a tutti.